Anche per quest'anno la sardelada a Riva del Garda, organizzata dagli amici della Tirlindana, non ha potuto che registrare un grande successo. La festa, che si è tenuta lo scorso sabato al Parco del Broglio, ha attirato moltissime persone pronte a celebrare il pesce del lago di Garda. Le più di 600 porzioni di sarde, accompagnate dalla polenta e da un bicchiere di vino o di birra, sono finite velocemente dopo l'inizio della distribuzione avvenuto alle ore 19. Grande la soddisfazione per gli organizzatori, tutti volontari, che con la sardelada terminano settimane di preparazione per permettere alla festa di svolgersi nel migliore dei modi. L'uscita a pesca con l'amo, svoltasi nei due sabati precedenti, la pulizia a mano dei 1800 pesci, la conservazione e la cottura al momento, un lavoro da veri esperti, ripagato dalla soddisfazione manifestata da tutti quelli che gli hanno potuti gustare.